ciao a tutti ragazzi io sono maghi ed eccoci qui con un nuovo video che non avrei mai pensato avrei dovuto fare così presto sono arrivata a 900 iscritti e wow tra pochissimo raggiungeremo mille iscritti e io veramente non so che cosa dire sono non lo so sono scioccata però dato che pensavo di fare un video tra virgolette diciamo speciale diciamo che è più che altro un video diverso dal solito per i mille iscritti volevo chiedervi in questo video di scrivermi qui sotto nei commenti delle domande che volete farmi quindi di qualunque genere su the sims su di me come volete usate l'hashtag askmaki ve lo scrivo comunque in sovimpressione così sapete come si scrive tutto potete farmi tutte le domande che volete io poi nel video quando raggiungerò e se raggiungerò i mille iscritti sceglierò alcune di queste domande o tutte dipende non lo so quali vi piacciono insomma e risponderò e quindi ci sarà questo video così così che potrete anche conoscervi un po meglio dato che dato che ora abbiamo raggiunto questa questo traguardo è giusto che comunque mi conosciate un pochino meglio e vi racconti un po qualcosa di me e non farò ancora vedere la mia faccia perché al momento non mi sento di farmi vedere la faccia però chissà magari in futuro lo farò comunque ci sarà una tra virgolette sorpresina nel senso che non vedrete la mia faccia però vedrete un po vi farete un'idea di come sono ecco però non vi dico altro perché così poi vi farò vedere direttamente nel video quindi niente è tutto mandatemi appunto queste domande quelle che volete sbizzarritevi perché mi piacciono anche le domande buffe come volete fate come volete e niente quindi io vi mando un bacio enorme grazie 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 del supporto e noi ci vediamo al prossimo video ciao